La funivia Sanremo Monte Bignone, costruita con materiale esclusivamente nazionale e dotata dei massimi coefficienti di sicurezza, che percorre 7.688 metri superando un dislivello di circa 1.250 metri in 40 minuti primi, integra l'ottima attrezzatura turistica della regione offrendo ai forestieri che affollano la riviera di Ponente un'interessantissima escursione montana a circa 1.300 metri di altitudine, donde si godono superbi panorami e dove durante l'inverno, a brevissima distanza dal mite clima rivierasco, la neve si compiace spesso di favorire gli sciatori. Grazie a tutti!